Si chiama Tiziana Guarda la stampa Io l'ho fatto solo da sponso Anzi, ha fatto da sponso un rimanente che mi tesse il nome Se lo sponso lo faccio a due Fai il giro, con la scusa Che dobbiamo premiare è la Donatella Aspetta, aspetta un attimo Bella, c'è il primo che è il primo Bella, c'è il primo, vai in piano Non c'è niente di ciò La terza premiata che non c'è è la Paola Che non c'è Adesso la lasciamo qui da sempre La puoi baciare E poi la quante che è la New Entry Grazie a tutti 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 Adesso il primo deve pagare Ma lui non lo vuole più Ma lui non lo vuole più E' stato il primo Il primo è rimasto un cortoccio Ma lui non lo vuole più Forse rimaneremo la cittura Forse rimaneremo la cittura Allora no ok 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 legge ha testato voce alta è un fantasista leggero voce alta non è qui non è qui non ci vede però di me da sotto voi siete come i carosini non vuoi vedere il tuo quarto te ma infatti non lo vede mai se lo facesse è stato di merito e di vera il presidente il presidente il presidente il presidente attestato viene conferito a Cimo Gett motivazione quale vincitore dei gran premi appunti piedina sottopassato sottopasso sottopasso e porno ciò costretto a sospendere l'attività a tempo indeterminato causa sciuppo momentaneo momentaneo sciuppo affaticamento fisico anche perché quando tolva delle volate a casa da sempre delle prestazioni che compagni entusiasti lo eleggono alla umana humanità anche sottopasso 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 grazie a tutti grazie a tutti